ciao a tutti siamo qui in un nuovo video e oggi andremo a fare un video acquisti a una mara di acquisti da farvi vedere quindi direi subito di incominciare allora la prima cosa che vi faccio vedere sono due squishy che sicuramente li avrete visti già in copertina allora il primo squishy che prendo questo qua questo ovviamente è uno squishy lol fake infatti qua come potete vedere c'è scritto lql e il pallino il puntino insomma della o sta qua sopra quindi vabbè e niente ce n'erano diversi io ho preso questo qua con unicorn il prezzo è questo qui lo vedete qua e c'erano anche allora earthbreaker che era fatta benissimo con i colori anche identici e poi anche cosmic queen se non sbaglio e in più ce n'erano alcune delle confetti pop ma c'era anche una confetti pop con un cerchietto a unicorno che non era unicorn io ho preso unicorn però ai capelli blu come vedete qua quindi non è realistica rispetto alle altre e qua abbiamo l'immagine appunto delle di due delle lol vabbè principali e poi abbiamo mer baby qua su e diva qua e niente ci dice appunto che non è cibo ovviamente non va mangiato è uno squishy quindi direi di aprirlo e è carina la confezione perché si può richiudere si apre qua e qua non mi raccorta una specie di stella come vedete allora vediamo com'è la squisciosità la morbidezza insomma allora innanzitutto il paint job è fatto così giusto qua sull'occhio un po' di difetto però non è fatto male a parte i capelli che sono blu invece di bianco arcobaleno allora proviamolo ok diciamo che non è super slow rising però non è neanche malissimo e l'odore è quello classico di squishy insomma dolciastro comunque non mi sembra male quindi questo qua è carino ovviamente non ve li posso consigliare visto che non sono originali però l'ho voluto provare anche per farvelo vedere e non sono fatti male ecco l'altro invece è di batman eccolo qua allora è veramente super carino solo che la cosa che mi ha fatto più ridere è che sta batman di batman vs superman e c'era anche iron man dentro a queste confezioni da principessa tipo col castello eccetera questo mi ha fatto morire e anche questo si può richiudere e questo già al tatto sembra molto più morbido e dipinto molto meglio è super super liscio e anche questo è abbastanza slow rising ne ho avuti di più slow rising però comunque non è male e l'odore pure questo è dolce è un po' diverso dall'altro ma ma veramente buono devo dire cioè come quelli che ordinate sui siti tipo bangood eccetera la qualità è la stessa quindi super carino poi due acquisti veloci sono stati allora questo qua che è di questo colore rosa fluo che è il mio colore preferito tra l'altro che è una spazzola come vedete per gli animali e costa un euro questa qua mi serviva e in più è di questo colore fantastico quindi penso proprio di usarla a breve e è veramente carina ha come vedete qua la tipo la cerniera insomma per chiuderla e niente ditemi se ne avete anche voi e come vi ci trovate poi ho trovato questo pennello a un euro e cinquanta che è veramente super bello io non avevo niente a coda di sirena volevo trovare quelle penne di tiger però non le ho trovate questo qua è un pennello se non sbaglio per eyeliner ma in ogni caso insomma sempre per il make up e è super carino come vedete è tutto diciamo metallizzato e appunto a coda di sirena sfumata e mi piace veramente tanto e appunto a breve anche questo lo utilizzerò e finirà nella mia collezione ho anche quelli con il corno di unicorno e mi erano arrivati mi sembra con una collaborazione da bangood e erano super super belli e anche questo mi piace un sacco un altro pacco che mi è arrivato è questo qua da imp questo è un regalo per una mia amica quindi le dirò di non guardare il video e niente arriva appunto da imp e mi era piaciuto tanto e quindi gliel'ho presa mi sembra proprio adatta allora praticamente è una tazza di stranger things eccolo qua e praticamente ora tanto lo riesco a rimettere dentro senza rovinarla è questa tazza qua con lui e la sua famosissima citazione che fa grrr così è vestito appunto come nell'ultima puntata della seconda serie quando va al ballo e mi piaceva tantissimo e quindi è troppo simpatica punto originale netflix vabbè mi piaceva tantissimo quindi ditemi nei commenti se piace anche a voi oltre a quello l'ho fatto poi anche un altro regalo ma quello deve ancora arrivare quindi lo vedremo in un altro video allora poi c'è quest'altro pacchettino di una cosa che ho preso ed è una lol che sta all'interno di questa bustina adorabile di tiger con il lama e è questa qua court champ delle glam glitter perché io ce l'avevo l'avevo trovata con voi se vi ricordate però l'avevo scambiata per neon cutie delle glam glitter però mi sono pentita perché mi piaceva molto questa e infatti mi piace probabilmente più di neon e quindi alla fine l'ho ripresa e niente penso di rivendere neon e tenermi questa vabbè e niente mi piace tantissimo soprattutto il colore dei pantaloncini e della fascia perché è super fluo e non so mi piaceva un sacco mi metteva allegri anche perché è tutta fluo con l'arancio il giallo è veramente carina e quindi ho deciso di riprenderla fatemi sapere se ce l'avete e se vi piace gli ultimi due pacchetti invece sono a tema Pupsi Slime allora uno è questo qua che arriva da Gea Gaia allora mi ha dato anche questa card di Gorgias, Santoro Gorgias in omaggio, carinissima e quello che ho preso è questo qua dei Pupsi Cutie Tutis che è uno dei più rari e anche uno dei più belli secondo me che finirà qua sulla scrivania e è il gattino unicorno con tutti i colori dell'arcobaleno è veramente spettacolare e niente era adorabile quindi l'ho preso non mi sono fatta mandare lo slime e la confezione perché tanto non ci farai nulla però ho preso questo che appunto finirà qui sulla scrivania ditemi se vi piace ma io lo stra adoro l'ultimo pacchetto è sempre un Pupsi eccolo qua solo che è un Pupsi Spackley Critters uno degli unicorni eccolo qua c'è anche il bigliettino di ringraziamento e questa è la sua appunto lattina e si chiama la Kaka invece che la Coca Coca Cola e niente è questo qua è uno dei più belli sicuramente ma tutti quelli che mi piacciono comunque e è questo qui con appunto gli occhi tutti arcobaleno e ha anche dei tatuaggi qua come vedete ha un narvalo con l'arcobaleno e un unicorno di qua con le mini zampette e un altro arcobaleno è tutto perlato questo è il sotto con i ferri di cavallo e niente la coda è morbida tutto tutto perlato arcobaleno veramente uno dei più belli è proprio proprio spettacolare ma questa serie è tutta bella quindi penso se riesco a trovare anche il pesce mi farebbe piacere però ecco poi dopo il pesce penso di avere tutti quelli che mi piacciono di più e poi uscirà una seconda serie che vi metterò nelle aggiornamenti delle... quando vi faccio insomma i video aggiornamento vi dirò anche della seconda serie quindi questo è tutto per questo video acquisti fatemi sapere qual è stata la cosa che avete preferito quali avete anche voi se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su iscrivetevi al canale partecipate al mio giveaway che si sta per concludere e noi ci vediamo al prossimo video un bacione e alla prossima attivate la campanellina mi raccomando e mettete un commentino ciao ciao